Io faccio sempre parlare il campo, sempre e comunque, io faccio sempre parlare il campo e faccio sempre parlare la palla che rotola su quel campo e qualcuno deve chiedere scusa, e qualcuno deve chiedere scusa, qualcuno deve chiedere scusa perché i campioni, i campioni, quelli con la C maiuscola, ci mettono 5 minuti quando hanno la palla fra i piedi a zittire tutti quanti, perché è facile buttare della merda su un giocatore che è stato fuori per dei mesi costretto a stare fuori per dei mesi per colpa di un infortunio al ginocchio e sapete benissimo di chi sto parlando perché Paolo Di Bala è stato attaccato troppe volte da suoi stessi tifosi com'è che è quella leggenda che narra qualcuno che Di Bala non è mai decisivo quando conta? questo qua è l'ultimo fra tanti gol decisivi anzi questa è l'ultima fra le tante prestazioni decisive che Paolo Di Bala ha regalato ai suoi tifosi e alla sua maglia perché un giocatore non è decisivo solamente quando fa gol si può essere decisivo in tanti altri modi e quindi qualcuno deve chiedere scusa perché io e chi mi segue lo sa ho sempre come una formichina, ho sempre messo da parte i vari pezzettini e non vedevo l'ora, l'ho messo anche ieri se ne le storie non vedevo l'ora che Paolo tornasse a pestare quel campo perché ve lo ripeto, i campioni ci mettono 5 minuti basta che gli date il pallone sui piedi basta quello e ci sono troppi tifosi che dimenticano troppo in fretta quello che certi giocatori danno per la propria squadra poi si critica si critica quando un giocatore fa male si critica quando un giocatore è fuori forma sapete chi critico per esempio? visto che così non faccio sempre quello di parte McKennie McKennie è da 2-3 mesi a questa parte e guarda caso anche coincidenza che arriva in corrispondenza del suo riscatto definitivo dallo Schalke è da 2-3 mesi che si è seduto sugli allori non entra più con quella fame, con quella bava alla bocca che lo contraddistingueva rispetto agli altri perché sapeva che si stava giocando l'occasione della vita adesso non è più così e si sta normalizzando e non se lo può permettere c'è OneFootball questa sera ve lo dico molto volentieri che c'è OneFootball da scaricare perché c'è tanto di cui parlare e spero che anche lo stesso Pirlo si possa togliere qualche sassolino perché si è parlato tanto anche di Pirlo questa sera ragazzi Pirlo ha preparato la partita davvero da grande allenatore sono stato il primo a criticarlo le giornate scorse ma quando fa le grandi partite quando prepara le grandi partite bisogna dirlo lo ha fatto per esempio con la Roma lo ha fatto con il Milan lo ha fatto con il Barcellona lo ha fatto stasera lo ha fatto con la Lazio Pirlo ha dimostrato quest'anno più e più volte di saperci fare e di non essere l'ultimo dei coglioni a differenza di quello che qualcuno pensa o vuole pensare questa vittoria non dice niente della stagione della Juventus non ci dice che saremo campioni d'Italia non ci dice che saremo in Champions League con certezza l'abbiamo visto gli ultimi 4 minuti a questa squadra qua questa squadra qua basta pochissimo per sfaldarsi io la scorsa volta contro il Torino l'ho definito una squadra di carta pesta basta pochissimo a questa squadra per aver paura per andare in cagone basta pochissimo basta un rigore al novantesimo bastano quei 4 minuti dove sono tutti in apprensione ma dobbiamo starci io ci sto perché quest'anno la stagione va così e io ci sto e quest'anno bisognerà lottare fino all'ultima giornata anzi cosa dico fino all'ultimo secondo dell'ultima giornata esattamente come oggi perché è una stagione la stagione è talmente tanto strana la stagione è talmente tanto difficile che non bisogna abbassare la guardia e la partita di oggi mi fa venire nervoso perché mi dà ragione quando vi dico che questa squadra non ha problemi tecnici o tattici certo c'è anche quelli ma non sono quelli che l'han fatta uscire dalla Champions League contro il Porto e non sono quelli che l'hanno scaraventata quinta in classifica in campionato perché i 25 giocatori che formano la rosa di questa squadra non sono da prima d'Europa per carità di Dio ma non sono neanche da quinto posto in Italia a differenza di quello che dice qualcuno sempre per tornare lì ero molto negativo ero molto negativo i miei amici testimoni io ero convintissimo ero veramente afflitto dalla negatività da domenica scorsa contro il Torino ed ero convinto 100% che la Juve questa sera avrebbe perso la partita avrebbe messo probabilmente a repentaglio la qualificazione in Champions ed ero anche convinto che sarebbe saltata la testa di Pirlo come in tanti volevano invece questa squadra mi ha dato una prova veramente una risposta da grande squadra ma soprattutto da grande gruppo perché io non ho mai messo in dubbio una cosa di questa squadra e questo me lo potete confermare anche voi se mi ascoltate che questa squadra ha sempre avuto la voglia di lottare insieme insieme dopo l'eliminazione dalla Champions è venuta meno quest'unità si sono sfaldate tutte le certezze che avevamo tutte ci è voluta la sconfitta con il Benevento ci è voluto il pareggio brutto contro il Torino e ci ha fatto tornare quella fame perché ragazzi vedete che questa squadra quando ci mette quella rabbia e quell'umiltà da provinciale ma soprattutto quella fame che contraddistingue la Juventus da secoli questa squadra è forte questa squadra è forte probabilmente ci ha fatto vedere il primo tempo migliore della stagione se non è il primo tempo migliore della stagione poco ci manca poco ci manca e quindi mi fa innervosire perché questa squadra le cose le sa fare questa squadra le cose le sa fare e non è un problema di tiki-taka non è un problema di giocare bassi e ripartire non è un problema di 4-2-3-1 4-4-2 4-3-3 certo ci sono anche quelli sono importanti anche quelli ma questa squadra dopo nove anni di vittorie ha bisogno di ritrovare la voglia e la disponibilità di mangiare l'erba ragazzi è questo è questo è molto più semplice di quello che si possa pensare è molto più semplice di quello che si possa pensare allegri è meglio di Pirlo certo ragazzi certo è come se mi venite qua a dire è meglio è meglio Tiago Alcantara o Fagioli stiamo parlando di un campione contro un esordiente ma è certo ma non è che stiamo giocando non è che stiamo facendo la modalità carriera di FIFA non è che si prende uno dopo due partite lo si vende all'altro e si fa così si fa no il gioco non funziona così ci sono delle scelte e bisogna percorrerle con coraggio con coraggio e Pirlo Pirlo e con questa chiudo si è meritato sul campo si è meritato sul campo il coraggio da parte della dirigenza di continuare questo percorso e questo progetto così rischioso così pieno di incognite certo certo ma tu devi avere il coraggio di continuare questo percorso perché altrimenti fallisci due volte perché allora fai capire che quella scelta non era dettata da un'idea di lungo termine era dettata da faccio un all-in e vediamo come va ma non è così e sono contento perché Pirlo con questa piccola partita con questa piccola vittoria che poi così piccola non è si è preso una bella rivincita si è preso una bella rivincita e Paolo Di Bala Paolo Di Bala se l'è presa più grossa di lui perché non ha avuto modo di dare risposta a determinate critiche di tutti stampa tifosi esperti 5 minuti ragazzi 5 minuti su quel prato verde con la palla fra i piedi